Siamo ospiti oggi di Fee Only 2016, questa manifestazione, che impressione ha avuto? Beh, innanzitutto l'ho trovata, beh c'è più gente, assolutamente, quindi una frequenza maggiore, ho trovato l'ambiente un po' più professionale, quindi c'è un interesse diverso rispetto a quello che c'era negli anni precedenti, un interesse anche alla ricerca di qualcosa di più importante. Ecco, questa figura professionale ormai è diventata a tutti gli effetti una realtà, che cosa avete sviluppato, che prodotti avete sviluppato per questa figura ad hoc per loro? Beh, noi siamo specializzati nelle soluzioni di prodotti di private equity, quindi comunque il nostro mercato è un segmento ancora più ristretto rispetto al segmento dei consulenti indipendenti perché comunque solo pochi dei loro clienti sono adeguati, diciamo, ai prodotti professionali. e noi abbiamo due prodotti in particolare, uno sulle energie rinnovabili e uno sul factoring, che sono prodotti di private equity, quindi si distinguono per essere decorrelati dai mercati, decorrelati dagli altri attività, dell'asset class che ci sono in questo momento nei portafogli dei clienti e oggi con i tassi comunque a zero, di cui abbiamo appena parlato, effettivamente rappresentano un'alternativa decisamente interessante. Si parla tra l'altro in questi due giorni di futuro anche della professione, un po' di tutto il settore. Avete in programma lanci di servizi in particolare nel futuro breve termine? Beh, noi abbiamo comunque un ufficio di ricerca che cerca sempre dei prodotti diversi e più adeguati per quelle che sono le esigenze dei clienti professionali. Il futuro è sicuramente molto importante perché, per esempio, sono stati già approvati in sede europea gli European Long Term Investment Fund e sembrerebbe che della direttiva potranno essere distribuiti, cioè consigliati esclusivamente tramite dei consulenti indipendenti. Quindi in effetti è questo il futuro della professione sicuramente.